Il procuratore Lucia Lotti, dopo otto lunghi anni di onorato servizio, abbraccia la città prima di partire per Roma, dove andrà a ricoprire il prestigioso ruolo di procuratore aggiunto. In una gremita aula del Tribunale di Gela, colleghi e collaboratori che non celano commozione esprimono gratitudine ad una professionista magnifica e una grande donna. Gli interventi che si susseguono ne traccia nel profilo. Apre la cerimonia il presidente del Tribunale, Paolo Fiore, che di Lucia Lotti racconta. Fautrice di importanti cambiamenti e progressi, come ad esempio l'informatizzazione dei processi, novità che peraltro ha fatto guadagnare al presidio gelese la qualità di modello da seguire in Italia. Dotata di eccellenti caratteristiche che le hanno consentito di formare nuovi magistrati e creare così un team in ufficio di eccellenza. Segue l'intervento del prefetto Cucinotta, che non manca di sottolineare come le donne facciano più fatica per affermarsi, ma quando poi arrivano ai vertici nessuno più le ferma. Grazie alla forza di volontà e alla tenacia. Il presidente della Corte d'Appello ricorda il periodo difficile vissuto in procura precedentemente all'insediamento di Lucia Lotti e precisa che i magistrati avevano bisogno proprio di essere incoraggiati e coordinati da una guida sicura che nel procuratore hanno trovato. Il magistrato ricorda le inchieste mai avviate prima a Gela e intraprese invece da Lucia Lotti su salute, inquinamento e ambiente. Non trascura neanche di sottolineare la grande umanità della donna e lo splendido ed esemplare rapporto con i colleghi, ma anche con tutte le forze sane della città, in particolare con alcune associazioni e le scuole di ogni ordine e grado. Il procuratore generale Sergio Lari racconta lo stretto rapporto di collaborazione con la procura distrettuale in otto anni di attività. È la volta poi del presidente dell'ordine degli avvocati Emmolo che ricorda con quale energia la procura insieme al foro abbia intrapreso molteplici battaglie a favore del presidio di giustizia gelese per la copertura dell'organico e l'informatizzazione. L'avvocato esprime infine gratitudine a Lucia Lotti per aver amato Gela incondizionatamente. Molti altri rappresentanti istituzionali hanno voluto prendere parte alla cerimonia con un intervento. Il presidente della Camera Penale, l'avvocato Giacomo Ventura, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, che ha donato un omaggio al procuratore, il magistrato Antonio D'Antona e ancora il GIP Veronica Vaccaro, che commossa, descrive Lucia Lotti, fulgido esempio della vera arte del comando con un encomiabile spirito di servizio. Intervengono tra gli altri anche il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo, che ringrazia il procuratore per i numerosi contributi umani e professionali alla scuola e agli studenti con i quali è stato intrattenuto un dialogo privilegiato, ma l'intervento più atteso è il suo. Quello dell'attuale presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta, Fernando Asaro, indicato in attesa di ufficialità della nomina come il nuovo procuratore capo di Gela. Asaro, con una garbatissima punta di ironia, afferma, riferirò di questa cerimonia e delle parole straordinarie dedicate a Lucia Lotti al nuovo procuratore che si insedierà. Magari rimedita la scelta. Certo, il procuratore Lucia Lotti lascia a Gela un'eredità di inestimabile valore. Ogni pensiero a lei dedicato converge su un unico concetto generale. Lei è stata capace di essere un solido punto di riferimento per tutta la città onesta. Insomma, una cerimonia quella di ieri, un'usta di emozioni e anche commozione dedicata ad una donna, prima che al procuratore, che ha dimostrato giorno dopo giorno di amare Gela molto più di tanti gelesi. Noi della stampa non potremo mai dimenticare la conclusione del suo ultimo bilancio di responsabilità sociale, quando le ultime immagini di un lungo discorso furono dedicate al patrimonio archeologico di inestimabile valore, custodito a Gela nelle teche, nei siti visitabili, ma anche nei fondali marini e nel sottosuolo. È da lì che Gela deve ripartire, affermò in quell'occasione Lucia Lotti, dalla sua ricchezza e dalla sua bellezza. Questo è il miglior augurio che una città come la nostra poteva ricevere.